Cosa vuol dire disastro? Da dove deriva? La parola disastro è una parola polissemica vuol dire che ha più significati dipende dal contesto in cui è inserita io posso dire questa stanza è un disastro in questo caso la parola disastro ha il significato di ordine vuol dire che la stanzetta è molto disordinata posso anche dire questa parola è una parola composta da un perfisso dis legato alla parola astro alla paura connessa ai marinai quando intrappendevano una navigazione notorta per loro non poter vedere le stelle non avere dei punti di riferimento nella loro navigazione rappresentava un vero e proprio disastro bene che andava si rischiava di ritornare indietro nelle peggiore delle ipotesi si poteva fare un incidente si poteva affondare non è facile muoversi durante la notte senza punti di riferimento senza gli strumenti che danno la posizione per i primi marinai non vedere le stelle rappresentava un vero e proprio disastro disastro